... Buongiorno, bentornati a Medicina 33. Oggi parleremo di vitiligine, è una malattia della pelle, le cui cause sono ancora poco conosciute, ma che crea problemi di ordine psicologico non trascurabili. Cominciamo a parlare subito di vitiligine, quali le possibili cause e quali le terapie. Sentiamo Elisabetta Migliorelli e poi torniamo in studio. La prima macchia l'ho cominciata a vedere quando ero in vacanza in montagna, che mi sono abbronzata e ho visto che non c'era pigmentazione. La vitiligine è una malattia in cui il colore della pelle sparisce, sparisce perché le cellule che producono il colore della pelle muoiono e vanno incontro alla degenerazione e tende a permanere ovviamente negli anni, nel senso che in qualche modo quello che si vede la vitiligine, la macchia bianca, è il segno di un danno che si è sviluppato a carico della pelle e come tale persiste di fatto per tutta la vita. La vitiligine colpisce in egual misura uomini e donne, soprattutto fra i 20 e i 40 anni, rari i casi pediatrici. Le cause non si conoscono, si sa ormai però che non è una malattia genetica. Non si trasmette la vitiligine. Quello che eventualmente può essere trasmesso è la predisposizione allo sviluppo di una patologia infiammatore cutanea, tra quale anche la vitiligine, in cui certamente i dati epidemiologici dimostrano che gli stili di vita, le abitudini alimentari, l'ambiente, il livello di ansia, l'impatto psicologico, ha un aspetto importante sulla possibilità o meno che possono comparire le manifestazioni cliniche. Io ho una storia familiare di vitiligine che è iniziata con il papà di mio padre, con una vitiligine molto importante e purtroppo poi è comparsa anche mio figlio verso l'età di 15 anni e lui ha una vitiligine più importante della mia. Questa è la modalità, come si esegue una visita in una persona che ha la vitiligine in un ambiente oscurato, si esamina la pelle, si esamina tutta la superficie cutanea con una luce a raggio ultravioletti, una luce blu, che fa evidenziare bene la depigmentazione in ambito di vitiligine. Oggi della malattia si sa molto di più rispetto al passato, ma ancora dalla vitiligine non si guarisce. Le terapie messe a punto finora hanno come obiettivo quello di fermarla. Fermarla è un successo perché vuol dire che abbiamo interferito col meccanismo in cui la malattia si sviluppa. Stiamo cercando di migliorare tutti quelli che possono essere gli approcci terapeutici per fare rigenerare delle cellule. Stiamo facendo un trattamento laser alla signora. Il laser decimeri è una delle nuove frontiere del trattamento con la luce della vitiligine. Il vantaggio del laser è di poter emettere una potenza di radiazione in unità di tempo molto breve e quindi dare una scossa energetica in qualche modo alla pelle per poter riattivare il processo della pigmentazione. Non meno importante poi è l'aspetto psicologico. La lesione che mi mette più in imbarazzo è chiaramente la parte del viso che io tendo a nascondere con una frangia. La presenza della vitiligine sulle mani, per esempio, condiziona enormemente le persone già nel dare la mano a qualcun altro, nella preoccupazione che venga considerata una stimmate o venga misconosciuta la situazione o per sentirsi dire ogni volta che cos'hai. Al momento i trattamenti non risolvono la malattia ma riescono a risolvere le manifestazioni cliniche. Quindi è importante poter restituire una terapia di mantenimento e una terapia di base per evitare la possibilità di una ricaduta. Ebbene. Grazie. Grazie. Grazie.